guarda sono proprio indeciso sai non so mica che macchina comprarmi sono decisioni tremende quella lì io l'ultima volta che ero in bilico tra la fletta turbo e il BMW iniezione sono entrato in paranoia e poi esce per Mercedes ah si guarda sono proprio d'accordo altra categoria cambiare caro è una scelta di vita, bilismi Ivana andiamo a patinare eh si voi venite? senz'altro se ti pare che uno viene in montagna a patinare ma l'alibidine è qui amore sole, whisky, simple position andate avanti voi dai che raggiungiamo poi vai vai